Amici carissimi, ben arrivati a questa puntata di Duc in Altum che è onorata, lasciatemi dire così, dalla presenza del sindaco di Forlì, il quale alcuni giorni fa è stato a colloquio, anche se breve, però reale, col Papa, essendo il Papa in visita a Cesena. E siccome non capita tutti i giorni di poter avere un sindaco che è stato a colloquio col Papa, io sono molto lieto di dirvi che la sua gioia è un po' la gioia di tutta la città e anche di Forlì, che ricopre una parte notevole della storia ecclesiale, perché anche Giovanni Paolo II lo avemmo qui a Forlì quando fece il suo viaggio in Romagna. Bene, carissimo Davide, non so se posso dire semplicemente così, ma l'esperienza di avere a colloquio, anche seppur brevemente, un Papa non è di tutti i giorni, non è di tutti i sindaci. Cosa ne dici in proposito? Beh, questa esperienza stradiaria della visita di Papa Francesco in Romagna, particolarmente a Cesena, hai detto bene, non è una cosa che accade spesso e non tocca a tutti i sindaci. Noi nella storia solo del Novecento abbiamo avuto il grande viaggio che ha toccato la Romagna dopo l'unità d'Italia e di Giovanni Paolo II nel 1996, quello fu uno spartiacque anche simbolicamente storico, perché fu una riconciliazione di fatto con la Romagna dopo oltre 100 anni dall'unità d'Italia e toccò a tutte le città, quasi tutte le città della Romagna e quindi poter avere anche brevemente un altro Papa dopo 31 anni è stata un'emozione importante, credo per tutta la cittadinanza cesenate e romagnola e credo anche per gli amministratori sindaci che hanno potuto anche brevemente poter avere un contatto e scambiare alcune parole con lui. Queste parole, brevi ma significative, per te cosa hanno segnato? Beh, hanno significato intanto l'avere toccato con mano davvero un Papa che come sembra è, una persona che ha una predisposizione al rapporto vero e all'attenzione all'altro, si potrebbe dire che è un Papa molto empatico, un Papa che si rivolge con grande attenzione ai propri interlocutori. Io ho avuto modo in quella fine settimana di vederlo anche a Roma il giorno prima con una delegazione di sindaci e ad ogni intervento prestava davvero una grande attenzione e per quanto mi riguarda il Papa Francesco ha voluto cogliere il nesso tra l'incontro di Roma che ho fatto in veste di sindaco e l'incontro di Cesena che ho fatto in veste di presidente della provincia e quindi constatando la diversità del simbolo, la fascia tricolore che diventava fascia azzurra, ha colto anche quanto oggi i sindaci abbiano responsabilità nuove e diverse e ha voluto che un Papa ringrazi, è davvero una sorpresa e un'attenzione in attesa, ringrazi i sindaci e gli amministratori per la propensione, il lavoro che fanno, in generale le fasce deboli, poi la visita in Vaticano parlava del tema dell'accoglienza e dell'integrazione sociale dei rifugiati e dei migranti. Quindi un Papa che davvero non sembra, un Papa che è. Il suo modo di essere Papa, trasportato sulla quotidianità, dice una fraternità, dice una semplicità che a volte è anche un pochino problematica perché le sue affermazioni, il suo modo di presentarci, i suoi slogan che sono così efficaci, però impegnano quotidianamente il cristiano. Sì, questa affabilità, questa avvicinanza, questa empatia di Papa Francesco non deve essere vista solo come una propensione alle relazioni. In realtà il pensiero e il messaggio di Papa Francesco è un messaggio molto profondo che trasmette con facilità, ma che in realtà è supportato da una sicuramente grande e profonda fede, ma una forte attenzione a quello che deve essere un messaggio da trasmettere a tutta l'umanità. Io non credo solo al popolo cristiano, alla comunità cristiana. Ci sono elementi del messaggio di Papa Francesco che sono elementi che devono diventare importanti anche nel ruolo laico dei governanti e degli amministratori. Oggi la società è molteplice e complessa dal punto di vista delle esperienze, dell'appartenenza, del pensiero, delle religioni, ancora di più da quando i fenomeni migratori hanno portato tante persone nuove anche nelle nostre terre. Ebbene, lui ci dice che nella profondità anche di un messaggio evangelico il ruolo laico delle istituzioni è quello di offrire gli spazi della libertà e del dialogo. E ci incoraggia in questo, deve incoraggiare certamente gli amministratori, ma credo che sia un segnale per tutti i cittadini. Quindi non è una forzatura l'abbinare il Papa ai problemi che anche voi come sindaci e come autorità civile avete da risolvere? Io non credo che sia una forzatura, perché comunque il Papa è, oltre che un capo di Stato, è comunque una figura di riferimento di livello mondiale per centinaia di milioni, miliardi di abitanti del pianeta. E per questo il suo pensiero e la sua azione orientano e sono punti di riferimento per buona parte dell'umanità. E questo significa che quello che fa è davvero in grado di influenzare equilibri, relazioni di livello locale e di livello internazionale. Lui ha sempre, credo, molto rispetto della laicità, delle istituzioni e io credo che non abbia mai prevalso rispetto a quello che è il potere di una società, di una comunità democratica. Credo anche però che i messaggi che dà dal punto di vista del pastore di una comunità religiosa, della comunità cristiana, siano elementi che valgono per gli amministratori di qualunque provenienza sia. Il nostro settimanale di Forlivese, della Diocese di Forlì, ha intitolato il primo numero dopo la visita Un abbraccio che ci dona speranza. Ecco, hai avuto sensazione, Davide, che realmente la gente lo abbia accolto nella prospettiva dell'impegno del domani? Sicuramente c'è un grande sentimento popolare di vicinanza, di affetto e questo era palpabile nelle diverse visite perché poi in realtà domenica ha avuto molti appuntamenti dopo Cesena anche nel capoluogo regionale a Bologna. e quindi sicuramente c'è un generale sentimento di affetto. In realtà credo che moltissimi siano ispirati e siano toccati dai suoi messaggi, dal pensiero, da quanto fa per ricordare che la società è complessa e c'è bisogno di una responsabilità sempre più grande, più si hanno ruoli importanti, istituzionali, ma anche la responsabilità del singolo cittadino e nel caso del credo cattolico dei fedeli debba essere di primo piano. Io credo che proprio Francesco non si limiti ad avere una vocazione sociale, soprattutto, come dimostra. Il fatto sta che è appena uscito anche con il proprio pensiero, ad esempio, sul tema della volontà di secessione in Spagna, della Catalogna, e credo che da questo punto di vista sia un messaggio importante come statista e come figura in grado di parlare del senso laico dell'istituzione. Quindi il titolo che dona speranza non è campato per aria convenevole, è una possibilità che noi come cristiani qui dovremmo attivare, mettere in atto. Beh, è un Papa che guarda al futuro, che tocca il presente, prende spunto dal presente, ma dà speranza perché ci chiede comportamenti che siano finalizzati soprattutto a dare speranza alle generazioni che verranno. Ti porto, Davide, su un tema un pochino diverso da quello che senz'altro un sindaco abitualmente tratta, cioè il mondo del lavoro, la società, ecco, perché nella sofferenza del Papa verso certe situazioni di preti e di situazioni interne alla Chiesa, noi cogliamo una sua grossa sofferenza e una prospettiva di diversità di modo di porsi. Ecco, però quello che tu hai visto l'hai trovato come uomo inserito pienamente nel contesto sociopolitico in cui viviamo. Sì, io ho trovato in questo momento molto rapido sicuramente una persona propensa all'impegno. Io ho potuto vedere che in poche giornate incontra migliaia di persone, quindi un sorriso, uno scambio affettuoso non lo nega nessuno e cerca di essere positivo nelle relazioni con tutti. Devo dire la verità, una persona anziana e quindi... Carico degli anni. Carico degli anni e può certamente dopo una giornata impegnativa, giornate impegnative come quella di domenica a primo ottobre, risentire davvero della stanchezza. Io pensavo che i primi giorni della settimana fosse a riposo e invece le cronache ci dicono già impegnato in ulteriori momenti, in ulteriori incontri. E quindi questo ci dice davvero che sta facendo un'operazione e probabilmente anche con una forza interiore altissima, elevatissima, davvero oggi di guida dell'umanità, tra le guide morali dell'umanità di cui c'è estremamente bisogno. Oggi tra tanti punti di riferimento che cadono, credo che anche oltre la religione cristiana il Papa Francisco si è considerato uno di questi punti di riferimento dell'etica. Non voglio portarti fuori tema perché è logico che il rapporto fra te e il Papa in questo senso qui è tutto l'aspetto politico sociale della cittadinanza. Però la vita del Papa, i suoi insegnamenti rapportati alla Chiesa, al modo di essere cristiani, anche detto a noi preti, fa veramente insegnamento e problema. Sì, io credo che ci sia un'azione molto visibile verso l'esterno, ma il ruolo di Papa Francesco è un ruolo che ha già generato cambiamenti dentro la stessa Chiesa. E la Chiesa è una realtà complessa, molto complessa, e che ha le sue anche letture diverse, che siano nelle stanze del Vaticano, che siano poi nei paesi e in tutto il mondo. E certamente il Papa Francesco ha dimostrato di non avere paura di generare quei cambiamenti e di usare anche parole nuove per denunciare le situazioni più difficili e critiche che ha trovato dentro la Chiesa. Questo gli fa onore perché significa che è una persona libera, una persona che poi alla fine, anche se lo fa in una maniera intelligente e anche dal punto di vista delle modalità gentili, è un Papa forte che è in grado davvero di generare il cambiamento che tanti si stanno aspettando. Non è semplice e non sarà semplice farlo in tempi rapidi, ma la direzione è certamente quella giusta. Io ho studiato alla Gregoriana e so cosa vuol dire andare a scuola dei Gesuiti. E lui è un Gesuita, nel senso che gli argomenti li prende ma li sfonda e va giù nella radice delle motivazioni. Ecco, tant'è vero che anche nei suoi modi così semplici di presentarsi nella quotidianità e nelle udienze che fa ha però sempre un aggancio alla sua storia, al suo fondatore Santo Ignazio di Loyola e allo spirito e al compito che i Gesuiti hanno nella Chiesa. Quella Chiesa che anche oggi è chiamata ad essere capofila. Sì, si vede che la formazione Gesuita è quella di una figura che porta avanti un pensiero solido, forte, con determinazione, con modalità, ripeto, che poi alla fine lo rendono una figura vicina, una figura affabile, ma certamente i processi che ha generato sono progressi, io credo, inarrestabili e che per fortuna hanno trovato anche dentro la Chiesa tanta comprensione, solidarietà e sostegno. Ma non da tutti però. No, no. Ha i suoi ostacoli anche interni. Ci sono certamente, questo sono evidenti, però probabilmente anche dentro la Chiesa qualcuno sperava che arrivasse finalmente un Papa che non avesse paura di generare e anche di denunciare. Situazione chiedendo perdono, ma chiedere perdono che è un messaggio che Papa Francesco ha lanciato anche a Cesena. Cesena ha ricordato che sbagliare non è qualcosa di cui vergognarsi e per cui l'orgoglio non deve far tornare indietro, ma anzi è una lezione che migliora le persone. E quindi io credo che il potere del perdono, la potenza del perdono sia uno dei messaggi più forti che la Chiesa può lanciare e sicuramente che Papa Francesco lancia, il perdono in generale, ma in transigenza nell'etica e nei comportamenti. Ecco, perché nei confronti dei discorsi fatti sia ai vescovi sia ai sacerdoti, il Papa è chiarissimo ma con esigenze ben precise. Non fa il gioco del compiacimento, va alla verità a tutti i costi, come quando lui si comporta così con la gente. Adesso io ho visto nei giornali quella foto che adesso forse il regista ci può far vedere del bambino. Questo è l'atteggiamento del Papa. E' così, ecco, va al bambino cieco, ha detto toccami, toccami il volto, ecco. Cioè la persona che si inserisce nel problema anche se questo costa sacrificio e a volte anche disagio. Sì, ha una propensione fortissima alle relazioni umane e si vede che prova gioia, soprattutto quando può essere una gioia lui per i bambini, per le persone più deboli, per le persone anziane. D'altronde la Chiesa vede tutti con equità e tutti devono avere la possibilità di essere vicino a chi lancia un messaggio di questo tipo. Noi possiamo raccogliere davvero la grandezza di questo capo di strato, di questo maestro dell'etica e del comportamento corretto e improntato alla giustizia sociale. E credo che noi possiamo davvero come amministratori anche trarre un'ispirazione importante nella nostra vita pubblica. Ecco, certo che la parola che dici tu è molto importante perché hai un ruolo amministrativo mica piccolo in una forlì che ha bisogno della continuità e della innovazione, ecco, perché è facile adagiarsi su posizioni comode o di assuetudine. Qui si tratta invece di guardare al domani in una maniera vigile, ecco, costante, tenendo conto che anche forlì ha dei grossi problemi, non solo sotto l'aspetto della gioventù, ma della università, degli studi, ma anche proprio del lavoro e della vita sociale. Oggi fare l'amministratore e il sindaco è certamente molto più complicato che non qualche anno fa, un po' perché la crisi dei partiti porta a meno reti di protezione per chi fa esperienze amministrative, dall'altro perché comunque la globalizzazione e le crisi finanziarie e economiche degli ultimi anni hanno messo in difficoltà paesi e anche comunità locali. Per cui il lavoro è tantissimo, non dobbiamo farlo da soli. Non i sindaci per primi, gli amministratori non devono isolarsi e pensare come risolvere i problemi, ma devono trovare le strade per risolverlo con la società civile. Carissimo Damide Drei, grazie dell'avere concesso anche alla nostra piccola trasmissione Duc in Altum, che vuol dire prendere in largo, cioè andare alle motivazioni, la tua presenza, perché sei chiamato dalla mattina alla sera a rispondere a molti problemi. Ecco, l'ultimo che ti chiedo è proprio questo, di come vedi la tua collaborazione, la gente che hai attorno in collaborazione con il tuo compito di primo cittadino di Forlì? Io ho una storia, un'esperienza, prima di fare il sindaco, che viene dalla realtà sociale, prima nel mondo del volontariato, poi della cooperazione, quindi cooperare è sempre stato un modo di agire, cioè non c'è una persona sola al comando, ma c'è al massimo un regista di squadre, di gruppi, che con ruoli diversi devono raggiungere i risultati. Il risultato di un sindaco, della sua giunta, dei consiglieri, del personale, del comune, dei collaboratori, è quello di fare il bene della propria città, della propria comunità, ma di farlo non in maniera burocratica, ma con la porta aperta, con l'ascolto dei cittadini e possibilmente col coinvolgimento dei cittadini. Il principio di sussidiarietà, che è un principio di responsabilità, che è quello che sostiene che i bisogni delle persone vanno soddisfatti, risolti, nel modo più vicino alle persone stesse, anche con la responsabilità stessa dei cittadini. Significa che quei cittadini che sanno trovare o indicare la strada per una soluzione a qualsiasi tipo di problema, può essere un problema nel quartiere, può essere un problema di persone sole, può essere un'idea per abbellire la propria città, va fatta col supporto dell'amministrazione comunale e non solo scaricando sulla comune. A volte rischia di essere un po' lo sfogatoio, un po' la rivendicazione, e se non è in realtà un'alleanza, una strategia di collaborazione, rischia di poi non dare frutti, lasciando da una parte rabbia e dall'altra parte poi la non realizzazione dei progetti che si vogliono realizzare. Le cose si fanno insieme. Carissimi, è molto bello quanto ha detto con semplicità il nostro sindaco Davide Drei. Preghiamo perché possa essere aiutato anche interiormente da questi messaggi che coglie nella vita della Chiesa ufficiale, ma anche di quella quotidiana. E auspichiamo che il suo lavoro, che ha dato così sempre i buon frutti fino ad oggi, possa continuare anche nella prospettiva del cambio del Vescovo, perché ormai è più lui che noi a dirlo, che continuamente accenna al suo partenza in avvento, in attesa del nuovo. Ma indipendentemente dal nuovo o vecchio, l'importanza è di dare senso e maturità alle proprie scelte, come tu hai fatto come sindaco, e che noi dobbiamo fare come cristiani e io anche come sacerdote. Davide, grazie, auguri, di buon lavoro e ad migliora. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.